parliamo ancora una volta di martin fitzwater contro good vita delle controversie legate eventuali furti e cose del genere bla 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 per sintetizzare io credo che avrei potuto vincere uno così come avrei potuto vincere l'altro senza nessuna lamentela good vita più definito fitzwater anche lui definito ma meno però secondo me più bello da vedere più completo in generale quindi l'ho sintetizzata tantissimo e adesso vediamo un po posa per posa chi la spunta però come detto ripeto se avesse vinto good vita non ci sarebbe stato niente da dire ha vinto fitzwater non penso ci sia niente da dire quindi iniziando col front double bicep io questa posa personalmente la darei a good vita perché è più definito partendo dai quadricipiti più separazione nelle braccia il rapporto vita spalle superiore fa anche il vacuum quindi aumenta anzi restringe la vita però mi piace anche martin che è più denso in generale ha una densità superiore nei muscoli alcuni hanno parlato di effetto 3d non credo che sia questo il caso però leggermente meno definito buon front double bicep non eccezionale è più stretto di clavicola non si allarga bene come good vita che ha un rapporto vita spalle sicuramente migliore però in questo caso la posa la darei a martin perché come detto pur essendo più stretto è più denso se guardate bene i deltoidi escono meglio nel senso sono più definiti nel senso che li vediamo meglio sono più stondati ecco il petto è più densi la definizione è accettabile non eccezionale però è una buona definizione quella di good vita è sicuramente superiore non mi piace il fatto che i dorsali siano così altri c'è davvero c'è davvero troppo alti in questa posa non si notava nel fronte al bicep ma in questa si nota di più da anche questa illusione di un tronco molto allungato cioè tra la vita e l'attaccia dei dorsali c'è la tua strada chiaramente più definito però questa posa la darei a martin passando invece al side chest qui si vede qualche limite nella struttura di good vita e parlo più che altro dei tricipiti che sono così così la pienezza delle braccia è sicuramente inferiore rispetto a quella di martin la pienezza del petto lo stesso è inferiore rispetto a quella di martin ha meno femorali che invece a martin e nel complesso questa posa mi piace di più quella di martin cioè il bodybuilding è colpo d'occhio ed è anche l'insieme di tanti piccoli dettagli e in questo caso sia con i piccoli dettagli che con il colpo d'occhio mi sento di premiare martin good vita è sicuramente più definito però mi piace meno questa posa soprattutto nelle gambe è molto più definito per gli manca il femorale cioè se le gambe frontalmente erano il doppio di quella di martin lateralmente sono superiori quelle di martin anche nel back to the bicep do questa posa a martin perché good vita è più largo anzi neanche più di tanto però gli manca un sacco di densità cioè nella parte centrale nella parte bassa insieme con l'attaccatore dorsali un po alta perde tantissimo in questa posa c'è davvero se guardate le due schiene cioè si definiscono da sole nel senso che non ci bisogna di dare spiegazioni molta più densità di martin glutei più definiti quelli di good vita però anche quelli di martin sono buoni più dettagli inferiore da parte good vita però anche i dettagli inferiore di martin sono buoni quindi c'è non si può vincere solo di definizione per quanto sino a pochi anni fa la definizione facesse vincere gli show mi sembra che negli anni si sia passati da definizione basta a pacchetto completo e in questo caso martin è una schiena migliore invece per quanto riguarda il back lusper do questa posa a good vita che è più definito e più granitico in generale sia nella schiena che nei glutei e nei femorali buona posa ancora di martin però nel back lusper mi sento di dare il vantaggio a good vita anche se nonostante fosse sembrato più largo nel front double bicep nel front lusper anche forse nel back double bicep qui è un po ridimensionato quando fa il back lusper cioè sono equiparabili nel senso se guardiamo la ampiezza e la larghezza ai dorsali questa posa mi sento di darla a good vita per definizione soprattutto poi globalmente cioè di schiena e anche nella parte bassa passando al set tricep questa posa la do a martin perché ha dei tricipiti sicuramente superiori rispetto a good vita guardate la differenza dai tricipiti mi piacciono molto di più anche i deltoidi di martin di nuovo femorali superiori cascano meglio addome mi piace di più in questo caso e anche i pettorali mi piacciono di più con una definizione che è sicuramente superiore quella di good vita ma mi sembra che man mano che posassero le cose si fossero un po avvicinate cioè a livello di definizione nel senso che la definizione stava migliorando man mano che posava sto parlando di martin chiaramente quindi questa posa non mi piace assolutamente quella di good vita mi piace molto di più quella di martin quindi un'altra posa che darei a martin per quanto riguarda l'absent eyes in questo caso la posa può andare tranquillamente a good vita perché comunque le gambe sono superiori i tagli nelle gambe sono superiori l'addome è superiore mentre quello di martina questa spaccatura al centro in più non è controllato bene come quello di good vita per quanto sia comunque un buon absente eyes ottime gambe ottima posa per martin però quella di good vita credo che sia la posa superiore quindi questa posa la darei tranquillamente a good vita e non penso ci siano problemi nel nell'accettare da parte di chiunque il fatto che questa cosa sia di good vita poi arrivando infine alla most muscular che come sapete io in genere non amo commentare troppo perché come dico sempre è una posa per i fotografi darei questa posa personalmente a martin perché è più rotondo la most muscular è una posa la più muscolosa quindi devi essere rotondo devi essere tondo devi essere pieno devi essere tutto e martin è sicuramente più pieno e più rotondo guardate del tori guardate i pettorali che qui appaiono anche più striati di quelli di good vita quindi questa posa mi senti di darla a martin adesso non ho fatto il conto fatelo voi se ne avete voglia mi sembra di aver dato più pose a martin che a me piace di più a colpo d'occhio però come già detto good vita e migliorato molto in questi in questo annetto ha portato un ottimo pacchetto sia qui che in sud america sono sicuro che da qui all'olimpia vincere una gara si qualificherà se avesse vinto questo detroit pro non c'è stato assolutamente niente da dire io penso che fossero più o meno interscambiabili per un motivo o per un altro quindi fatemi sapere che ne pensate credo che di furto non sia assolutamente trattato buona